Ringrazio Tamara Gregoretti, nuovo componente del Consiglio d'Amministrazione, ringrazio Amerigo Restucci, il professor Restucci che è colonna del Consiglio d'Amministrazione. Citato dal presidente Pietrangelo Buttafuoco nel suo primo ricorso ufficiale, il professor Amerigo Restucci risponde così. Ho chiesto di incontrare il presidente Buttafuoco, l'ho visto due giorni prima, abbiamo avuto una lunga conversazione di circa un'ora dove ho colto uno spessore culturale veramente singolare del personaggio. Abbiamo spaziato da vari argomenti, ha ribadito che vuole portare avanti le idee che sono già state costruite sulla Biennale. Amerigo Restucci, delegato dal governatore Zaia, sarà l'elemento di continuità insieme ovviamente al sindaco Brugnaro, vicepresidente per il Statuto della Biennale di Venezia, tra il vecchio e il nuovo CDA, molti gli incarichi che il professore dovrà portare avanti per la città, tra i quali quello di primo procuratore vicario della Procuratoria di San Marco, dopo le dimissioni di Carlo Roberto Tesserin, tornando alla Biennale, dice ancora. Il presidente Buttafuoco ha incontrato tutti i dipendenti della Biennale, anche questo è un bel segnale positivo, e poi tra le altre cose ha detto che è importante mettere a punto la sistemazione dell'archivio storico della Biennale. Si sta restaurando l'edificio importante dell'arsenale di fronte alle corderie e potrà diventare proprio il segno di una continuità storica di tutto quanto la Biennale ha fatto negli anni, dal 1895 in avanti. Tutti gli artisti che fanno mostra nel mondo hanno mandato e mandano i cataloghi.